La geografia conta, sempre. I panorami che ci circondano sono il motivo per cui sogniamo certe cose e non altre, che sono i boschi, i porfili delle montagne, le pianure infinite o il mare. Quello che abbiamo guardato fin dall'inizio rimane dentro di noi e dentro le nostre imprese. Gli antichi dicevano che ogni luogo del mondo ha uno spirito che lo abita e lo definisce. Chiamavano questa specie di divinità con il nome di genius loci, genio del luogo, per dire che certe cose nascono in un ambiente preciso e non può essere altrimenti. Questo è Genius Loci, il podcast voluto da Confindustria Veneto Est per raccontare le storie di imprenditrici e imprenditori, delle loro imprese e di come siano legate a un territorio poco raccontato, unico e geniale. Il Veneto Est.